Le quattro scuole d'arte dei mestieri questa volta sono ospiti del complesso dello Santo Spirito in Sassia. Siamo nella sala teatro del complesso. Grazie a tutti. Le quattro scuole sono state portate in opere realizzate nell'ambito delle quattro scuole dei diversi corsi che vengono erogati e che sono in aula per tutto quanto l'anno. A fresco, pittura, avrete modo di vedere tessuti, pellami, restauro, restauro dei materiali, scultura del marmo, scultura del legno e mille altre cose. Siamo nel chiostro delle zitelle con una serie di mosaici frutto di uno studio realizzato alcuni anni fa sui rioni romani, sono 15 medaglioni e quindi vi chiediamo di venirci a trovare per conoscerci e per farvi vedere le cose che si possono interare e realizzare nelle quattro scuole d'arte. Sassia. 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 Sassia.